La Guardia di Finanza di Sibari ha eseguito un nuovo decreto di sequestro di una somma di poco superiore ai 35.000 euro emesso dal Tribunale di Castrovilleri su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un dipendente pubblico del Comune di San Lorenzo Bellizzi in provincia di Cosenza. L'ordinanza è il risultato della prosecuzione di una complessa attività di indagine espletata dalle fiamme gialle su delega della Procura della Repubblica di Castrovilleri che si è conclusa con la denuncia a piede libero del funzionario pubblico per i reati di peculato, falsità, inatti e truffa. Il funzionario, sfruttando gli incarichi rivestiti, si è appropriati decisamente di 14.000 euro presso il Comune di Trebbisacce e di 35.000 euro presso quello di San Lorenzo Bellizzi. Il dipendente pubblico infedele già nello scorso mese di giugno era stato destinatario della misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio. Qui sono seguiti sequestri di beni fino alla concorrenza di 14.000 euro sottratti alle casse del Comune di Trebbisacce. Le iniziali indagini svolte, infatti, avevano evidenziato che il funzionario, sfruttando la sua carica di responsabile dell'ufficio della generia presso il Comune di Trebbisacce, dopo aver contratto dei finanziamenti personali con istituti di credito, operava solo formalmente la decurtazione sulla propria busta paga nella ritenuta mensile del quinto della retribuzione. L'analoga attività illecita è il risultato effettuato dal funzionario infedele nella Comune di San Lorenzo Bellizzi, dove, mediante appositi aggiustamenti e quadratura dei conti, ha sottratto più di 35.000 euro le casse dell'ente per pagare tra l'altro un finanziamento contratto con una società finanziaria a fronte della cessione del quinto dello stipendio. Il dipendente infedele, in questo caso apposto in essere un articolato artificio contabile, che sfuggito all'esame generale dei conti da parte degli organi di controllo interni, non ha destato il benché minimo sospetto di irregolarità. Al contrario, la ricostruzione invece operata dalla Guardia di Finanza, mediante l'esame di ogni singola movimentazione di somme tra i vari capitoli di spesa, ha permesso di evidenziare e quantificare i reali ammanchi di cassa, consentendo la pronta applicazione del provvedimento di sequestro anche per equivalente della somma di oltre 35.000 euro tra beni immobili e saldi attivi di conti correnti bancari.